Il programma è a buon punto, contiamo di fare i bagni quest'estate, che per me l'obiettivo è più importante, perché i bagni sono la priorità, a mio avviso, per uno stadio dignitoso e per i tifosi che stanno tante ore allo stadio. Poi partiremo con la progettazione complessiva di tutto lo stadio, Seggiolini, ma anche l'intera ristrutturazione allo stadio San Paolo. Stiamo andando bene, io non do più date, perché con la data, compresa la funicolare, per sette giorni di ritardo, blef funicolare, quindi date non le do più. Vediamo, vediamo, con l'assessore conosci dettagli, io posso lavorare, posso dare come indicazione generale che ho dato una direttiva ben precisa, che sarei molto soddisfatto se per quest'estate completiamo i tanti bagni che si devono fare, più la progettazione per la ristrutturazione dello stadio. Questo è l'obiettivo strategico che ci siamo dati.